Ciao ragazzi xddd sono Loquendo ciao oggi siamo in un cazzeggio retro come si facevano nel 2008 e nel 2009 con la voce appunto mia cio e quella appunto di Loquendo. Ma partiamo appunto con il video vero e proprio. xd quante volte ho detto appunto non lo so. Oggi andremo all'ospedale a dare visita ai malati. Morite brutti stronzi che andate a trovare malati all'ospedale. Agagagagaga xddddd. Oh no i fottuti sbirri del cazzo vabbè li massacro quei pezzi di merda. Quanto sono lenti questi cazzo di sbirri non arrivano mai faccio prima a uccidere tutta la gente dell'ospedale. Troppo semplice uccidere quei due sbirretti di quartiere. Nell'attesa di altri sbirri lentoni mi metto in una posizione più vicina ho l'ingresso così da proteggermi e ammazzarli meglio. Grazie a tutti. Quanto cazzo sono lenti? Si devono muovere perché non voglio perdere tempo. Nel radar sembrano vicini ma secondo me non lo sono perché ci mettono tempo. Nemmeno se dovessero percorrere una strada lunga di mille chilometri con il limite di velocità di un chilometro barra h. Ma quando vengono e se vengono gli faccio al culo a strisce. Morite brutti stronzi pezzi di merda. Cosa vi credete di fare contro di me? Andate a fanculo. Siete dei banali poliziotti scarsi. XDDDDD. Crollate dopo due colpetti. Siete più scarsi della merda. Infatti una merda crollerebbe molto dopo di voi. Non mi sparate brutti stronzi. Non ho ucciso io i malati dell'ospedale. È stato Rosario Muniz quel guy di merda L. Ho visto io e scappato. Non so dove ma vi prego non rompete i coglioni. Ok basta uccidere polizia. Ora zero il sospetto e vado a fare qualcosa di più family friendly. Per non farmi segnalare il video. Ora velocità della luce. Come avrete capito voglio fare il bug dell'altalena pazza che ci scaraventa lontano. Oh Dio precipito e muoio vabbè raga Dio. Che culo sono sopravvissuto. Ma io mi ammazzo comunque perché il video è finito. Lifto. Motto. Che scoff fire. Chi ti face. Come avrete capito. technology sal都有. Grazie a tutti.